In collaborazione con Ascotrade, liceo gas, energia dalle nostre mani. Potrebbe essere questo l'anno della pizza. Entro la fine del 2017 l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, potrebbe dichiarare l'arte dei pizzaioli napoletani patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Un riconoscimento destinato a valorizzare tutta la pizza italiana, le cui prime tracce portano anche nel Veneto, una pizza preistorica di 4.000 anni fa venne scoperta a Lazzise, sulle rive del lago di Garda. Ma sono tanti i luoghi dove sarebbero state preparate e gustate le prime pizze. Piacevano, stando al mito, anche gli dei dell'Olimpo, in particolare a Venere, la dea della bellezza e dell'amore, e al marito vulcano, dio romano del fuoco. E comunque la Campania, con Napoli in testa, la terra felice della pizza. Nel Veneto si ha attorno alle 6.000 pizzerie, nelle quali si lavora e ne si consumano sempre più prodotti tipici del territorio. Una ricchezza per la nostra campagna. Viva dunque la pizza! Viva la pizza, il piatto degli dei! Un cordiale saluto a tutti. Vi parliamo in questa puntata di pizza. Perché? Perché l'arte dei pizzaioli napoletani potrebbe essere conosciuto patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Sarebbe un traguardo molto importante, sono state raccolte per questo 1.200.000 firme. Ne parliamo con Mirko Fariello. Perché? Perché lui è di papà di Tramonti in provincia di Salerno e di mamma invece qui, Veneta. Perché? Perché non si capisce bene se la pizza sia nata nel Veneto oppure sia nata in Campania o addirittura se parla in Egitto. Secondo lei dove è nata la pizza? L'importante non è capire dove sia nata la pizza. L'importante è sicuramente dare alla pizza il giusto riconoscimento e anche dare un giusto riconoscimento a chi la pizza la fa. Dove è essere l'anno della pizza, della pizza italiana questo? Sarebbe sicuramente una bellissima cosa perché sarebbe dare un riconoscimento giusto alla fatica del pizzaiolo e al tempo che dedica per fare questo tipo di arte. La pizza è un po' il simbolo della identità italiana nel mondo. Ovunque noi andiamo ci riconoscono per due cose, per la pizza e per la pasta. Quindi sicuramente quando si va all'estero la pizza la fa sicuramente da padrone. Soprattutto se è fatta con i prodotti tipici della terra. Se parliamo di pizza italiana, quindi un prodotto tipico italiano, dobbiamo sicuramente usare prodotti nostrani, prodotti italiani. Della nostra terra? Della nostra terra sicuramente. Il sommario è subito dopo una breve scheda sulla storia della pizza. Entro la fine dell'anno l'UNESCO potrebbe riconoscere l'arte dei pizzaioli napoletani patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Ne beneficerà la pizza italiana in generale. Nel Veneto più di 6.000 pizzerie. E ci sono motivi per ritenere che proprio nel Veneto siano state preparate le prime pizze. Scoperta alla zizia sul Garda una focaccina preistorica, bene conservata, risale a 4.000 anni fa. Piante e fiori, situazione stabile mentre si attendono provvedimenti per far ripartire il settore che nel Veneto è molto importante, con i poli floroviveistici di Saonara in provincia di Padova e di Vessica di Loria nel Trevigiano. Con la CIA di Venezia facciamo il punto sugli allevamenti di bovini da carne nel Veneto orientale. Stalle a modello con una grande attenzione per il benessere animale. Finalmente un po' di pioggia dopo tanta siccità. Tra la fine del 2016 e del mese di gennaio sono calate del 97% le piogge rispetto alla media nel Veneto. Reti anti-insetti per contenere la cimice asiatica e la drosofila, i terribili nemici dell'ortofrutticoltura, un convegno a Verona. Cresce il disagio nelle campagne. Per l'86% degli agricoltori, il reddito è in fase di peggioramento. Sicurezza idraulica, lavori per prevenire frane in canali del basso veronese. E' bello pensare, anche se è ben difficile dimostrare, che la focaccina schiacciata, bene conservata, scoperta in un sito di palafitte dell'età del bronzo, 4.000 anni fa, la zide sul lago di Garda in provincia di Verona, possa essere stata la madre preistorica della pizza, come questa che sta cuocendo in una pizzeria di pievi di soligo nel Trevigiano. Eppure ci sono studiosi che confermerebbero l'ipotesi. Dunque la pizza potrebbe essere originaria del Veneto e i palioveneti sarebbero stati tra i primi a prepararla e gustarla. Storia o leggenda a parte, in provincia di Verona oggi ci sono pizzaioli tra i più prestigiosi d'Italia, dei quali è riconosciuta la grande professionalità e creatività, tanto che si impongono nei concorsi più autorevoli a livello nazionale e internazionale. Nel Veneto si contano oltre 6.000 pizzerie, il numero comprende anche quelle stagionali, aperte in località di mare o di montagna. In Italia supererebbero le 50.000 unità, con 100.000 lavoratori fissi, ai quali se ne aggiungono 50.000 nel fine settimana. Stando ad alcune stime recenti, in Italia si sfornerebbero ogni giorno 5 milioni di pizze. Un miliardo e mezzo di pizze all'anno. Sono gli Stati Uniti il paese dove si consuma più pizza, più di 13 chili a testa. In Italia siamo attorno ai 7,6 chili a testa. La pizza è considerato il prodotto gastronomico italiano più conosciuto al mondo, il simbolo più cordiale dell'identità nazionale. Ed ecco il nostro Mirko Fariello che sta lavorando. Che cosa ci sta preparando? Questa sta preparando, questa è una pizza da marinara di Tramonti, della mia terra. Perché lei è il originario di Tramonti. Esatto, di Tramonti in Salernitano, nel coste di Arnafitana. Poi questa è un'altra pizza molto legata al mio territorio, con il radicchio di Treviso. Sì, perché Treviso, il Trevisiano è il suo territorio, perché lei è di papà di Tramonti e di mamma invece qui delle colline trevisiane del Prosecco. Esatto, del Prosecco e del radicchio, quindi anche qua è mia terra. Per ultimo c'è una pizza con i carciofi di San Teramo, con il castradore, quindi tipica anche questa del nostro terra. Senti Mirko, ma la storia è che la pizza sarebbe nata qui nel Veneto, secondo alcune ricerche archeologiche. Diciamo che può essere nata anche qua nel Veneto, la tradizione è veramente ampia, abbiamo in tutta Italia la tradizione. Hai trovato una pizza preistorica, primitiva, nel territorio del lago di Garda? Può essere che l'abbiamo trovato sicuramente. Diciamo che è talmente ampia la storia della pizza che dare una connotazione è sempre complicato. Comunque sì, la tradizione veneta della pizza è sicuramente importante. Lei per chi partecia? Qua gioco troppo in casa. Diciamo che come da Tramontino posso dire che chiaramente il Napoli, la donna di Napoli insomma può essere il papà della pizza. Ma i Veneti sembrano essere i primi della classe nelle pizze, tanti primi premi sono arrivati qui nel Veneto, soprattutto in provincia di Verona. Sicuramente in Veneto ci siamo veramente grandissimi maestri nell'arte della panificazione della pizza, quindi sicuramente c'è tantissime belle realtà. Abbiamo delle nostre scelte particolari qua in Veneto che sono differenti da tradizione napoletana, in cui magari a Napoli c'è la richiesta di un cornicione, quindi di un bordo molto alto. Da noi invece abbiamo un cornicione che è molto più basso, che sia una pizza un po' più croccante. E qual è la pizza più gustosa secondo lei? La Veneta o la Napoletana? Gli andiamo proprio a dire il gusto, ognuno ha il suo, quindi dire qual è la migliore proprio non mi azzardo neanche a dirlo perché ognuno ha il suo gusto, andremo a fare un torto da una parte o dall'altra. L'importante è seguire un criterio importante di una scelta di buoni prodotti e di saper utilizzare anche quello che abbiamo in mano. Notizie di Agricultura Veneta, subito dopo un servizio dedicato al florovivaismo. Facciamo il punto sul mercato delle piante di fiori in questo inizio di anno. Finalmente la pioggia. È arrivata dopo un lungo periodo di siccità che ha creato non pochi problemi all'agricoltura. Le piogge nel Veneto, sul finire del 2016 e in gennaio, sono calate del 97% rispetto alla media. Nel trimestre ottobre-dicembre del 2016 ne sono caduti 228 mm, un 30% in meno rispetto alla media registrata dal 1994 al 2015. Su tutti i principali fiumi veneti, le portate medie mensili sono risultate nettamente inferiori alle medie storiche e ormai prossime a quelle minime. Ha fatto eccezione il fiume Po, favorito dalle forti precipitazioni avvenute in Piemonte alla fine di novembre. Benvenute dunque piogge per tutti e in particolare per i campi, sperando che non ne cadano troppe e facciano danni. Contro la cimice asiatica, il rimedio più efficace per ora sono le reti anti-insetto, capaci di contenere oltre il 90% della sua diffusione. È quanto è emerso a Verona nel convegno dedicato agli insetti alieni, arrivati da poco in Italia e che stanno creando seri problemi all'agricoltura e in particolare all'orticoltura. Ne è esempio la Ailiomorpha alis, la cimice asiatica, che è in continua espansione. È partita dal Piemonte ed è arrivata anche in Veneto, nel Friuli e in Emilia, passando per la Lombardia. Oltre alle reti anti-insetti, si stanno usando trappole aggreganti a feromoni. La lotta chimica, si sottolinea, non sembra risolutiva. L'attenzione è stata focalizzata inoltre sulla drosofila Suzuki, il moscerino che attacca soprattutto la frutta piccola, che, stando ad una stima, ha cagionato 20 milioni di euro di danni solo alle ciliegie. Il dato non lascia spazio ad interpretazione. L'agricoltura italiana si sente più povera. Per l'86% degli agricoltori non va bene e i redditi agricoli sono peggiorati negli ultimi anni. Lo evidenzia un sondaggio svolto negli ultimi mesi dal settimanale L'informatore Agrario, che ha raccolto i pareri di un campione di circa 500 agricoltori. Più del 91% degli intervistati non concorda con i toni bucolici e l'ottimismo delle dichiarazioni di politici e mass media, i quali sostengono che l'agricoltura va bene, che offre opportunità di reddito, che crea occupazione e che detiene il primato nelle esportazioni. Sono stati completati i lavori per consolidare gli argini nei canali Biniega e Sarega ad Albaredo d'Adige, in provincia di Verona. Gli interventi si erano resi necessari per mettere in sicurezza il territorio contro possibili cedimenti delle sponde e quindi contro il rischio di allagamenti. L'erosione dell'acqua è favorita dalla presenza delle tante nutrie, che sono una minaccia per la sicurezza idraulica. I lavori sono stati fatti dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. In fiera a Verona si sta avvicinando il Salone Legno ed Edilizia, in programma dal 9 al 12 febbraio. È una rassegna internazionale, unica nel suo genere in Italia per l'alta specializzazione. Ha per obiettivo prioritario la promozione del legno nell'edilizia e nelle tecnologie per la lavorazione delle strutture. Particolarmente ricca è l'agenda delle iniziative collaterali, seminari, convegni, corsi specialistici, incontri, concorsi. Martedì, sempre in fiera a Verona, la presentazione. È prevista la presenza del presidente di Verona Fiere, Maurizio Danese, con il direttore Giovanni Padovani e di Aldo Rebuli, presidente di PMT, la società che promuove legno ed edilizia. Tempo sostanzialmente stabile per il settore piante e fiori nel Veneto. Datti negativi si compensano tutto sommato con altri che fanno intuire un possibile miglioramento della situazione. Piante e fiori sono venduti in particolare nelle feste o in occasioni di ricorrenze, San Valentino, Natale, Pasqua, Festa della Mamma, Festa della Donna, Festa dei Santi. Prezzi sostanzialmente stazionari. La conferma si è avuta durante le feste di fine ed inizio anno. A proposito di consumi e di scelte di fiori da regalare, sentiamo Gianni Ceron, azienda agricola di piante e fiori di Roncade in provincia di Treviso. Tenendo conto di come è andato l'anno scorso, abbiamo mantenuto le posizioni. Quest'anno siamo partiti più o meno allo stesso modo dell'anno scorso. Che significa mantenere le posizioni? Avere gli stessi volumi di scambio, avere più o meno la tipologia di piante vendute sono più o meno le stesse. Adesso per esempio si vendono primule, viola del pensiero, roba di poco conto. Quello che è importante sottolineare secondo me è che la gente spende un po' meno. Cioè nel budget di spesa guarda quanto spendere. Insomma si compra meno fiori e meno piante? Non è che non si compra meno fiori e meno piante, puntano a qualcosa che costa meno. La voglia della pianta c'è sempre. Sul florovivaismo Veneto, realtà e tendenze sono indicativi i dati diffusi da Veneto Agricoltura. Sono contenuti nella bozza provvisoria del rapporto sull'andamento dell'agroalimentare Veneto nel 2016, fatto in collaborazione con l'Unione delle Camere di Commercio del Veneto. Si evidenzia in particolare un ulteriore calo di aziende che scende nel Veneto sotto la soglia delle 1.500 unità, meno 2,4% rispetto al 2015, due i poli florovivaistici nel Veneto, uno in provincia di Padova che con 456 aziende detiene il primato e Treviso che arriva a secondo con 316 unità. La produzione regionale di piante è salita nel 2016 al miliardo e mezzo, un più 7%. Il mercato ha risentito dell'abbondante offerta rispetto alla domanda e ha costretto i produttori a mantenere stabili i prezzi o a rivederli, ribassandoli, per evitare rimanenze o distruzioni di prodotto. Ed ecco tre fiori della pizzeria Veneta. Li presentiamo con Mirko Fariello che li ha appena preparati. Intanto incominciamo con la sua pizza. Sì, questa è la mia pizza perché con questa sono riuscito ad avere un ottimo riconoscimento. È una pizza preparata con lardo di colonnata, olive taggiasche, cipolla di tropea e i carciofi di Sant'Erasmo. Tutti prodotti tipici. Tutti prodotti tipici, tutti quanti garantiti e tutti quanti i rigosalimenti italiani o comunque preferibilmente nel nostro territorio. E lo segreto sarebbe proprio il carciofio di Sant'Erasmo, isola veneziana. Assolutamente, questa pizza qui è proprio caratterizzata da una prelibatezza, da una particolarità unica, il carciofo di Sant'Erasmo, il carciofino, la castradura di Sant'Erasmo che dà un tocco veramente importante e particolare a questa pizza. Questa qui è una pizza praticamente veneta. Abbiamo un radicchio di Treviso, un formaggio che è del formaggio di Malca, delle montagne nostre, esatto, e un petto d'oca fatto anche qua da un'azienda locale. Trevisano. Trevisano. L'ultima abbiamo la pizza che ricorda il mio territorio, prodotti tipici del Mediterraneo, una pizza con le acciughe, con sempre qua delle olive taggiasche, dei pomodorini semisecchi. Pizza da marinare, è proprio la prima pizza che è stata fatta a quanto pare? È una delle pizze più storiche che ci siano perché deve essere una pizza molto semplice, se ancora non era presente la mozzarella, era un prodotto tipico, un prodotto economico anche perché i marinari arrivavano in porto, devono mangiare una cosa veloce e avere però chiaramente un prodotto che non fosse eccessivamente costoso. Difatti abbiamo scarsa di ingredienti non ricercatissimi e abbiamo comunque creato una pizza, partendo dall'antichità, una pizza che sia comunque gustosa mettendo dei prodotti ricercati in questo caso. Adesso con la CIA di Venezia andiamo nel Veneto orientale per parlarvi delle carni prodotte nel Veneto. Gli allevamenti di bovini da carne del Veneto sono ritenuti primi della classe per qualità, per il benessere animale che viene garantito, per la gestione aziendale. Il Veneto, quanto a numeri, è in testa in Italia per capi allevati attorno al mezzo milione, quasi il 40% della produzione nazionale e per capi macellati oltre 65.000. Con la CIA di Venezia, la Confederazione Italiana Agricoltori, facciamo il punto su allevamenti e su mercato, un settore che da qualche anno fatica a far reddito penalizzato dal continuo calo di consumi di carne in Italia e dall'importazione di carne estera a condizioni fortemente concorrenziali. Qui siamo nel Veneto orientale, in mezzo alla campagna di Porto Gruaro, nell'azienda agricola Nuova Annia, in località lugugnana, un allevamento considerato esemplare sotto tutti i profili. L'alimentazione in modo particolare, ciò che voi avete una particolare attenzione per l'alimentazione. Sì, beh, utilizziamo tutti i foraggi, sono prodotti da noi in azienda, gli insilati, quindi il mais, l'oieto, il pastone di mais e quindi li usiamo come partenza per poi fare l'unifid degli animali. Ecco, che varietà, che tipo di animali sono questi qua? Questi sono scierolè, razza francese, sono animali che si prestano a fare un elevato incremento giornaliero. Sì, queste sono, diciamo, nella genetica francese le più adatte a questo tipo di allevamento, le macchine da carne, se si può dire. Senta, ci racconti un po' la vita di un giorno allevatore? Eh, si passa, si sta tutto il giorno qua, è semplice, tutto il giorno, tutti i giorni, nella settimana, quindi poche ferie. Come vede l'attività dell'allevatore di bovini da carne in prospettiva? Per il futuro, chi ha la possibilità, ed è già nel settore, ha già le strutture, un'attività avviata può continuare, chi parte da zero è impossibile. Impossibile? Impossibile. Non ci sono possibilità, perché i costi di allevamento sono troppo alti per riuscire ad averne un margine. Un po' pessimista il suo figlio Fabiano Corbisano. È pessimista, e dico giustamente, perché si rende conto che da 30 anni a questa parte, il prezzo col quale noi vendevamo il capo, che era circa 3 milioni di vecchie lire e mezzo, oggi sono 1.700 euro, che praticamente è lo stesso valore. Mentre la bistecca da 12.000 lire che andava a comperarla il consumatore, appunto, al banco di vendita, oggi va a prendersela anche a 18 euro. Ma torniamo al benessere animale, come funziona qui una stalla? Beh, questa funziona in maniera particolare, diciamo, bene. Si vede un spessore, praticamente, di letame basso, piccolo, giusto, utile per mantenere salvo lo zoccolo dell'animale, l'unghia, che il Signore l'ha fatta per stare nell'umido, all'intemperie, nel fango. Quindi noi tutti i giorni gli rifacciamo il letto agli animali, diciamo, con la paglia. Loro, camminando, fanno scendere pian piano sta paglia, che diventa letame, perché poi ci fanno i loro bisogni sopra. Ecco, come si può osservare qua, si vede l'animale che appoggia le gambe davanti alla catena, c'è lo spazio giusto per venire a mangiare e quindi non ferirsi. La catena è stata fatta in maniera che va piano, ma ha anche le sbarre grosse, in modo che l'unghia non può accavallarsi e quindi rompersi. E questo qua fa praticamente un giro ogni quattro ore e porta in letamaio le direzioni che loro, camminando, fanno scendere. E questo spiega anche la serenità di questi animali, la tranquillità. Lo spazio, questi box qua, che si chiamano box, sono dei spazi di 60 metri, cioè 10 per 6, e a 4 metri dovrebbero starci 15 animali, noi ne mettiamo 12, quindi hanno più spazio ancora. Volume d'aria, siamo a 30 metri cubi per animale, appunto per dare il senso, qua si respira bene, non c'è l'odore di ammoniaca e quindi partendo con un animale sano che vive bene, che sta bene, e quindi, ecco, tengo a precisare, l'animale non fa fastidio il freddo, perché sono dotati appunto della loro pelliccia e non fa fastidio il freddo, fa fastidio l'aria e come si può osservare in questi allevamenti, in queste tipologie di allevamento è tutto chiuso perché non c'è l'aria corrente. Qui vediamo i vitelloni maschi e vitelle da carne, chiamate anche sorane, bovine di età inferiore ai 20 mesi che non hanno mai partorito. Beh, la differenza sta intanto nell'allevamento del peso, sono animali che arrivano a pesi maggiori, con maggiori incrementi giornalieri maschi rispetto alle femmine. Poi, la differenza che si ha una volta macellati, abbiamo con le femmine tagli più piccoli, carne più tenera, con una maggiore infiltrazione di grasso rispetto a quello che è un maschio. Maschio invece? Maschio, abbiamo carne tendenzialmente più dura, anche perché il maschio tende a ingrassare molto meno, quindi a infiltrare di meno la carne. In questo moderno impianto di biogas, il letame e il liquame degli allevamenti sono trasformati in energia elettrica e in ottimo fertilizzante. Fino a una quindicina di anni fa, questo mega letamaio era tutto occupato. E siamo in gennaio, normalmente dovevano essere piene. Questo è praticamente l'alimentazione numero uno per la produzione di biogas. Una volta andava direttamente in campagna, adesso va in campagna. Dopo essere stato, diciamo, spremuto, lavorato, utilizzato la parte appunto di fermentazione che ha il letame, invece di mandare il metano libero in atmosfera con la sua fermentazione qua, va dentro al biodigestore. A questo punto l'etame è una doppia ricchezza per l'azienda. Il letame diventa la doppia ricchezza. La parte che appunto la storia diceva, il contadino che vende letame, miseria sicura, invece noi non solo non lo vendiamo, ma viene riutilizzato e fermentato sicuramente e un emendante migliore per il terreno. E qui, Andrea Parmigiano, siamo nel cuore del digestore. Sì, qua siamo dove c'è la sala pompe, quindi siamo in mezzo tra i fermentatori. Il sistema di pompaggio è dato da un'unica pompa centrale che permette di spostare il flusso di liquami, quindi all'interno dell'impianto. Funziona 24 ore su 24? Sì, funziona 24 ore su 24. L'impianto è da 1 megawatt, quindi 1000 kilowattora. viene dato dalla fermentazione di 200 quintali ogni giorno di letame bovino che proviene dal nostro allevamento, oltre a 200 quintali di insilato di mais e 200 quintali di insilato di loietto. Una bella potenza! Eh sì! Fabiano Barbisana, oltre ad essere un autorevole allevatore, è presidente di Unicarve, Unione Carni Venete. La maggiore associazione nazionale di allevatori di carni bovine ed è consigliere regionale Veneto. Gli chiediamo una fotografia del settore. Punti di forza, problemi, criticità, impegno e politiche per un rilancio della carne bovina veneta, un settore al quale la CIO di Venezia è particolarmente attenta. Quest'anno praticamente facciamo i 18 anni, dal primo di gennaio del 99 quando è stata fondata. I numeri di questa situazione? Beh, i numeri, facciamo praticamente circa 750.000 vitelloni in etichettatura, abbiamo 800 soci veri, reali, e diciamo Unicarve, punto di riferimento, tant'è che è stata l'azienda, diciamo oramai la chiamo un'azienda, perché questo era quello che mi ero prefisso da presidente, e l'abbiamo portata ad essere, diciamo, similare a un'azienda, cioè essenziale, costruttiva, e abbiamo aggregato tutte le altre associazioni più grandi presenti in Italia, tant'è che si è costituita il consorzio di Italia Zootecnica. Questo inizio del 2017, come state voi allevatori di bovini da carne? Beh, diciamo che l'impianto economico non è tra i migliori, anzi, perché appunto i prezzi sono fermi da 30 anni a questa parte per chi produce il bovino, viceversa i costi di alimentazione e di gestione si sono adeguati ai tempi, cioè noi siamo ancora, vendiamo tipo in lire, mentre la bistecca appunto ha assunto il prezzo politico dell'euro. E comunque riuscite a resistere? Pochi, pochi, nel senso stalle attrezzate, allevamenti organizzati, tirando al massimo, diciamo, quelli che sono i costi, ottimizzando tutto quello che ci può essere possibile. Fabiano, lei è anche consigliere regionale, la politica che può fare il vostro supporto? La politica, beh, come consigliere regionale mi fregio di aver contribuito in prima persona appunto a organizzare, diciamo, la legge per istituire il marchio Qualità Verificata, un marchio della Regione Veneto che tocca tutti e quattro, diciamo, carne, pesce, latte, latticini e ortofrutta. Ma questo marchio funziona a prospettive? Questo marchio ha prospettive di funzionare, è l'ultima speranza che abbiamo noi produttori di carne come anche i produttori di latte, perché i mercati chiaramente oramai sono adeguati anche ai paesi dell'est e quindi bisogna prenderne atto, dove là hanno costi naturalmente inferiori. e noi cerchiamo, appunto, utilizzando questo marchio, cioè la base è far sapere al consumatore quello che va a prendere. Per il settore bovini da carne, come per tutta l'agricoltura della provincia di Venezia, si sta lavorando sul fronte della qualità, dell'innovazione, delle identità e distintività. Il percorso è obbligato per un'agricoltura competitiva e redditizia, come spiega Paolo Quaggio, presidente della CIA di Venezia. Per la CIA sicuramente la qualità prima di tutto. Il sostegno che la nostra associazione fa alle aziende che producono qualità che sono la maggior parte, non solo nel Veneto, ma in Italia, è fondamentale. Bisogna però che il contatto con la grande distribuzione sia un contatto un po' diverso, nel senso che venga valorizzata la sforzo che fanno le aziende proprio per portare la merce, il prodotto di qualità sulle tavole dei nostri consumatori. Ma il processo di qualità a che punto è in questo momento qui nel Veneto? Il processo di qualità è ancora, secondo me, molto valido. C'è anche un sistema di qualità verificata proprio a livello regionale, che secondo me è un buon sistema, deve solo funzionare probabilmente meglio, però le aziende devono credere in questo perché è fondamentale che la qualità venga tutelata proprio dalle aziende per prima. Siamo sempre a Pieve di Soligo per parlarvi di pizze. Siamo nell'anno in cui l'arte dei pizzaioli napoletani potrebbe essere dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità, patrimonio culturale immateriale. Abbiamo parlato di carne, Mirko Fariello. Buona la carne veneta? Assolutamente ottima la carne veneta. Ma si usa in pizzeria la carne? Si può usare, c'è un progetto che è proprio quello di mettere la carne sopra la pizza. Chiaramente dobbiamo fare un prodotto in cui la carne sia la regina, quindi valorizzare una cosa eccezionale potrebbe essere fare una buonissima tagliata, quindi una carne veramente gustosa con dei porcini freschi da mettere sopra la pizza e fare in modo che la pizza sia servita. Le pizze che vanno per maggiore oggi? Allora, è una domanda veramente complicata. C'è quel discorso tradizione, innovazione? Abbiamo sia una ricerca dell'innovazione, sia una ricerca comunque della tradizione, proprio le pizze e quelle tradizionali, sia anche una ricerca di prodotti alternativi da sopra la pizza, l'intolleranza alimentare, non so se è una cosa che sta andando veramente tanto successo, tanta richiesta. Quello che però mi viene da dire sempre è che la ricerca è più che altro di prodotti tipici nostrani e di stagionalità. Questo è molto importante. Assolutamente molto importante. Infatti il radicchio in questo momento è richiestissimo. Tra poco ci sarà l'asparago, il carciofo, prima ancora. Quindi prodotti che devono seguire la stagionalità, quindi sempre freschi. Siamo in conclusione come sempre, lo facciamo con un detto veneto. Mirko Fariello ne ha uno così a portata di mano? Sicuramente uno che può essere azzeccato è sette volte fa. Abbiamo fatto una pizza con il prosecco, però all'interno dell'impasto basta volere e si può fare tutto. Insomma, basta volere e si cammina. E tutto appuntamento con Agricoltura Verde la settimana prossima. In collaborazione con Ascotrade, liceo gas, energia dalle nostre mani.